Ma parlando di gente che suona, signore e signori, chitarrista Paolo Chessisoglu, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. Senti, non è una sorpresa quello che stai per raccontare, perché in queste ultime 24 ore l'han già raccontato praticamente dappertutto, ho visto un sacco di servizi ai telegiornali e su tutti i giornali c'è un articolo, per cui insomma è una cosa che ha avuto già una buona eco, ma va raccontata per bene. Tu sei genovese, così come il tuo socio, e ovviamente siete rimasti molto colpiti da quello che è successo il 14 di agosto. E' il famoso ponte Morandi. Tu ho letto un'intervista stamattina, racconti che avevi molta confidenza con il rumore di quel ponte, perché ci passavi sopra in macchina con i tuoi. Sì, andavo al mare verso 20 miglia, quindi quando tornavo a casa addormentandomi sentivo le ruote che passavano sopra i giunti, tuttum, e quindi per me voleva dire essere arrivato a casa, e quindi insomma quel ponte ha significato molto. Sì, erano un paio di cose da bambino a cui facevi caso, appunto questo rumore qua e le gocce sul finestrino che correvano all'orizzontale. E ti fermavi lì. Esattamente. Purtroppo anche quel giorno lì pioveva moltissimo. Sì, vero. Dov'eri quel giorno lì? Io quel giorno lì, è del motivo per cui in realtà forse è nata questa canzone, perché sentendomi così lontano mi sono sentito irrazionalmente in ritardo, e inutile, incapace di, perché la cosa era già accaduta, e quindi sono entrato in questa libreria, ero vicino a San Francisco, c'era un pianoforte, nonostante che sia chiterrista ho trovato un pochino, insomma compongo anche lì, e mi sono seduto e le note sono proprio cascate sui tasti, poi sono tornato a casa a Milano e ho detto proviamo a lavorare su questa cosa qua e poi da lì ho incominciato tutto. Il tutto significa una canzone che tra pochi istanti ascolteremo, che si intitola C'è da fare, e alla quale hanno aderito 22 cantanti. Sono 25, credo. 25, addirittura c'è uno che si è ritirato. Eh? No, beh, c'è Ivano Fossati che aveva smesso di cantare da qualche anno e per l'occasione è tornato a cantare. Beh, diciamo, insomma, non è il suo ritorno, ma no, più che altro ha suonato, perché le note iniziali sono proprio una piccola schitarrata mia e sua. Questo pezzo è qui, ne parliamo adesso anche grazie a Ivano, perché io, sai, ero un po' incerto. Gli scrissi una mail, sai come quando butti un sassolino nello stagno, e dopo due ore mi rispose, e mi dici, guarda che questo pezzo secondo me funziona. Io ho chiuso il computer, l'ho riaperto, c'è scritto funziona. E' scritto vero, esatto. E allora da lì... Invece Gino Paoli come hai fatto? Perché Gino Paoli è quello che ti salta un po' di più all'orecchio, non all'occhio, in questa canzone, perché poi, devo dire, invecchiando è migliorato, cioè, c'ha, è proprio... Ha questa voce calda. È proprio forse, forse. È Johnny Cash, non so come dire, no? Sì, sì, assolutamente. È un po' una cosa lì, sembra un pirla, ma... Eh no, ogni tanto la zecchi. Eh no, è certo. E sai cosa ti dico, no? Quei Kissinger lì è forte, no? Sì, quindi ha aderito facilmente anche Gino. Sì, ma hanno tutti aderito con grande entusiasmo, ovviamente poi metterli insieme in 25 non era facile, però... Dove l'avete incisa la canzone? L'abbiamo registrata a Radio Italia, che ci ha sostenuto e gentilmente ha cerato i suoi studi. A saperlo non lo invitavamo. No, scusami. Volanti è un amico, mettiamola così. Potevo glissare, ma... No, aspetta, tu rifami una domanda. Dove l'avete incisa la canzone? Ma Radio... Eh, eravamo in tanti e... Io voglio sapere però, prima di ascoltarla, il file che tu hai mandato Ivano Fossati, era già compreso di musica e testo o era provvisorio? C'era già la musica e il testo, l'arrangiamento era molto, come dire, primordiale perché l'avevo fatto a caso. Ha evitato qualcosa suggerendo del testo? No, no. Ha evitato di mettermi in imbarazzo, ha detto... È bello così... Mi ricordo che ha scritto... È bello... Non è solo la parola esatta, non la ricordo... È bello così... Con un crudo, ha detto. Con un crudo. È vero che, scusami, prima di partire, è vero che ci hai lavorato tanto, tanto sul testo? Cioè, la musica è come... Sì. Velocissima. Sì, anche la musica, poi, insomma, la parte di tornello, l'arrangiamento ha preso un po', però sul testo sì. Perché c'erano delle rime che non eri tanto convinto. Sì, sì, e poi c'erano delle cose che volevo dire, mi... Dico anche una cosa che fa ridere. Mi piaceva mettere dentro la parola bisagno. Sì. Quindi, fare questo primato, di parlare di un fiumiciatolo che conosciamo solo a Genova... Beh, però è diventato famoso, perché Bisagno più volte è uscito. Bisagno è esondato. Più volte è uscito. E poi mi piaceva farlo a Magno, a Magno, sì. E che rima ci hai fatto? Un'assonanza con Mugugno, che è questo lamento genovese. Ah, è vostro al cielo. E quella lì l'ho cercata... Più elegante così, chiaro. Allora, ce l'ascoltiamo. Grazie. Cassie Soglu and Friends, che già soltanto per questo, ragazzi. Per Genova, c'è da fare.